Ciao a tutti ragazzi, oggi proveremo a mettere la cam, la DJI, sulla mentoniera della fidanza seduta dietro per capire un po' meglio il punto di vista, letteralmente, di una zavorrina Voletevi il video? Se il video vi dovesse piacere mettete un like e magari commentate anche per farmi sapere cosa ne pensate del video in sé e iscrivetevi, così quando compro la telecamera potrete vedere i nuovi video con la doppia inquadratura Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.